Stiamo facendo insieme un cammino di amicizia, di stima reciproca e di ricerca teologica, un cammino che ci fa guardare speranzosi al futuro. Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano una delegazione della Chiesa Evangelica Luterana tedesca e ha espresso soddisfazione per i progressi che i cristiani luterani e cattolici hanno compiuto negli ultimi 50 anni. Un solido fondamento di sincera amicizia, vissuta nella fede e nella spiritualità, che nel 2017 permetterà di commemorare congiuntamente il quinto a centenario della Riforma. In questa occasione, rimarcato il Pontefice, avremo la possibilità per la prima volta di condividere una stessa commemorazione ecumenica in tutto il mondo, non nella forma di una celebrazione trionfalistica, ma come professione della fede comune nel Dio Uno e Trino e di chiedere perdono a Gesù Cristo per le reciproche colpe. Nonostante le differenze teologiche che permangono in varie questioni di fede, ha concluso Papa Bergoglio, è fondamentale riconoscere che il dialogo ecumenico oggi non può più essere separato dalla realtà e dalla vita delle nostre Chiese. Di grandissima attualità sono le questioni relativi alla dignità della persona umana all'inizio e alla fine della sua vita, così come quelle attinenti alla famiglia, al matrimonio e alla sessualità, che non possono essere taciute o traslacciate solo perché non si vuole mettere a repentaglio il consenso ecumenico finora del giunto. Sarebbe un peccato se su tali importanti questioni legate all'esistenza umana si verificassero nuove differenze confessionali.